Convergenza S.P.A. Società Benefit, operatore di tecnologia integrato attivo nei settori telecomunicazioni ed energia 100% green, presente sul territorio nazionale con punti di ricarica per auto elettriche attraverso il brevetto Network Evo, continua la propria espansione territoriale al di fuori del Cilento e iniziando l'operatività nella nuova sede aperta lo scorso ottobre a Poggi Bonsi in provincia di Siena. L'apertura di Poggi Bonsi dimostra la volontà da parte di Convergenze di espandersi nel mercato italiano in territori con forte presenza di attività artigianali e commerciali, oltre che turistiche proprio come la Toscana, la provincia di Siena e la Valdelsa in particolare. La Valdelsa è il cuore pulsante delle attività produttive della provincia di Siena, un territorio compreso tra le province di Siena, Firenze e Pisa che deve il suo sviluppo alla via francigena e alla sua propensione all'economia sostenibile. La continua e armonica produzione di vino, olio ma anche cristallo, meccanica ed elettronica la rendono ideale e perfetta come sede operativa per Convergenze che fin dalla sua nascita ha puntato sull'innovazione e sulla sostenibilità. Il legame con il territorio toscano, nato già da qualche anno con il sostegno della squadra di pallavolo femminile di Siena, il Convergenze Cus Siena che milita in Serie B, ora si rafforza con la presenza dell'ufficio che ha sede in via Valdelsa a Pogibonzi in località Salceto 99. Rosario Pingaro, amministratore delegato e presidente di Convergenze, ha commentato. L'ingresso in Toscana è sicuramente un evento importante e motivo di grande soddisfazione e ritengo possa essere il trampolino di lancio per la nostra ulteriore espansione in altre regioni italiane. Ora siamo presenti in tutta Italia grazie alle due sedi operative di Capaccio Pestum e di Pogibonzi e i punti di presenza in Cilento e in Trentino. La nostra attività copre già virtualmente l'intero territorio italiano ma questa è la prima volta che apriamo una sede operativa in un'altra regione. Essere presenti come azienda su questo territorio ci dà la possibilità di assistere i nostri clienti in prima persona. La Toscana è un territorio di cui già conoscevamo l'enorme potenziale in quanto grazie a Pingaro, responsabile della BU Energy, nonché vicepresidente del Consiglio di Amministrazione, vi risiede e opera ormai da molti anni. Il rapporto umano e il contatto diretto rimangono sempre alla base di ogni strategia aziendale ben riuscita. Questo approccio è un punto di forza, di convergenze ed è particolarmente apprezzato dai nostri clienti. Voglio infine augurare buon lavoro al nuovo team che sono sicuro ci aiuterà ad ampliare la nostra rete di contatti.